C'è sicuramente in questo momento un problema di partecipazione e di mancanza di fiducia nelle istituzioni e nei partiti. La democrazia non è una cosa che ti regalano, è una cosa che ti devi guadagnare praticamente giorno per giorno. Però adesso noi abbiamo molti strumenti in più che permettono di partecipare al governo della cosa pubblica, solo che bisogna stare attenti a non avvicinarsi troppo in modo superficiale, sfruttare al pieno tutti gli strumenti ma cercare di approfondire al massimo per capire dov'è vera partecipazione democratica con tutto quello che vuol dire, quindi con tutto quello che c'è dietro, il dialogo e il rispetto dell'altro e dove invece rappresentazione con strumenti che tendono a utilizzare gli altri e non a renderli veramente partecipi. Questo è quello che secondo me bisogna cercare di trasmettere ai ragazzi. Ci sono tanti modi per avvicinarsi alla politica, sicuramente internet è uno di questi, però quello che conta soprattutto è l'impegno, la forza e la capacità di andare in fondo alle cose per riuscire veramente a fare grandi cose.